Oggi in Francia un attentato senza precedenti. Due islamici hanno deciso di occupare una chiesa e uccidere un prete. Non era mai successo nel nostro continente, non era mai successo nella vecchia e opulenta Europa. Tutti questi attentati, uno dietro l'altro, hanno un senso, hanno un significato. Si sono andati a colpire tutta una serie di luoghi che hanno un grandissimo significato per noi in Europa, dal divertimento, allo sport, ai supermercati, fino ad arrivare alle chiese. Chi dice che questi sono degli emuli sbaglia sapendo di sbagliare, perché mai c'è stato un attentato uguale all'altro. Sono sempre stati attentati uno dietro l'altro che hanno sempre avuto, come ho detto, dei significati ben precisi. Noi lo stiamo dicendo da tempo, stiamo dicendo da tempo che l'Islam non è una regione di pace, che non esiste l'Islam moderato, perché nessuno ha ancora condannato questo ennesimo attentato. E continuiamo a dire che oggi come oggi l'Europa deve iniziare a domandarsi e a fare un po' di autocritica su quelle che sono state le politiche di integrazione che ci sono state nel nostro continente. La situazione è drammatica perché a questo punto non si può più stare tranquilli nemmeno in chiesa e quindi riteniamo che ogni parola sia superflua, però a questo punto bisogna reagire.